Cristian Micocro si riprende con l'attività e con il campionato dopo la pausa estiva, la definiamo così. Domenica ci sarà l'appuntamento al Mugello, come si presenta? Sì, siamo stati fermi un bel po' e domenica ci sarà questa quinta gara al Mugello. Io spero che andrà nel migliore dei modi, giovedì inizierò a fare i primi turni di prove. Per te questa sarà l'ultima competizione al Mugello, è vero? Sì, questa è l'ultima gara di calendario al Mugello, dopo si andrà a Misano. Dato che anche la scorsa gara c'è stata sempre al Mugello, in gara avevo fatto registrare il mio miglior tempo e avevo portato un buon passo. Speriamo che riesco a migliorare più che il best lap e il passo gara in modo da poter riuscire a stare attaccato con il gruppetto dei primi. La preparazione come è stata in questi mesi, se c'è stata? Allora, diciamo che molti miei avversari sono andati a provare e hanno fatto dei test. Io purtroppo, sia per quanto riguarda i chilometri del motore, che queste moto da corsa hanno un chilometraggio molto limitato, non siamo potuti andare a girare, ma anche per un discorso di sponsor, che fare una trasferta al Mugello e fare un test è parecchio costoso. Quindi io sono stato fermo e ho cercato di compensare con l'allenamento fisico, quindi fare molta corsa, in palestra, eccetera. Un mese e mezzo è tanto, giovedì vedremo come siamo messi. Quinto in classifica, quindi nonostante le difficoltà, nonostante qualche difficoltà, si può trarre fino adesso un bilancio positivo di questo campionato? Sì, sì, quest'anno sta andando bene, sono quinto in classifica, non ricordo di preciso i punti dal quarto, però non sono più di dieci, quindi se questa gara e le altre due vengono fatte in maniera positiva, cioè escono tre belle gare, chissà, magari potremmo anche guadagnare qualche altra posizione in classifica finale. Io spero di terminare almeno nei primi cinque, che in un campionato come il Trofeo Dallop, che è molto competitivo e ci sono piloti molto importanti, insomma sono più che soddisfatto.